Buongiorno, sono Davide Orlandini e ho un messaggio importante da comunicare agli imprenditori. A tale scopo vi sono preparato alcuni appunti che vi leggerò. Ho deciso di realizzare questo video per fornire un contributo agli imprenditori che stanno subendo i danni del coronavirus, soprattutto per rendere nota una conseguenza che rischierà di far chiudere le aziende e lasciare a casa milioni di lavoratori. Prima di dire di cosa si tratta, però, è nostro dovere riconoscere che questa epidemia sta dilagando sempre di più e le conseguenze per il sistema sanitario sono apocalittiche. Abbiamo il dovere di salvaguardare la vita nostra e degli altri e per questo motivo diventa indispensabile adottare misure di isolamento drastiche, soprattutto per gli over 60. Soprattutto chi supera questa età ha l'impossibilità di essere assistito da respiratori in caso di sintomi da coronavirus. Dicevo però che ci sono altre conseguenze che si rifletteranno su aziende e famiglie. Se infatti non si corre ai ripari, le prime dovranno chiudere e le seconde non avranno uno stipendio per sostenersi. Quanto sto per dire, oggi non viene diffuso per due motivi. Il primo, le urgenze sanitarie sono più evidenti ed importanti. Due, il governo è concentrato a risolvere e gestire una situazione di crisi sociale e sanitaria che non ha precedenti. Tocca quindi a noi imprenditori e liberi professionisti adottare una soluzione e la soluzione, come potrò dimostrare, esiste. Tuttavia è una cosa che non si può rinviare pensando ne parleremo quando sarà finita, perché potrebbe non finire o potrebbe finire, ma di sicuro il nostro modo di vivere sarà diverso. Proprio per questo è urgente trattare l'argomento adesso, perché dopo è troppo tardi e solo ora si può mettere in atto il piano B. Ma di quale conseguenze si tratta? Per rispondere serve fare un ragionamento che si basa non su un punto di vista personale, ma su ciò che la storia, anche recente, ci insegna ed è il seguente. Ogni crisi, innanzitutto, è sociale. Le motivazioni possono essere le più diverse. Torri gemelle, guerra del golfo, crisi petrolifera, Lehman Brothers, coronavirus. Ma gli effetti, alla fine, sono logicamente ben noti. La crisi sociale determina disorientamento agli individui e alle famiglie e ciò determina l'inevitabile commercial crunch, cioè un fortissimo rallentamento dei consumi. L'immediata conseguenza è un impatto negativo sulle aziende, siano esse commerciali, produttive, di trasformazione, eccetera. Determinando quindi una crisi economica che, a causa del disorientamento degli imprenditori, genererà il business crunch. La crisi economica genererà inevitabilmente due momenti critici, uno immediato e uno differito. Mi do una buona notizia. Il momento critico immediato, cioè quello che stiamo vivendo oggi, ha già una soluzione. I due nemici storici delle aziende, lo Stato e il sistema bancario, sosterranno momentaneamente le aziende nella gestione dell'urgenza, attraverso sostegni come gli ammortizzatori sociali e un momentaneo accantonamento dei rigidi vincoli nelle valutazioni del rating delle aziende da parte del sistema bancario stesso. Però, ribadisco, momentaneamente il vero problema da prevenire e gestire oggi lo vivremo quando questa situazione rientrerà nella normalità. Perché prima o poi rientrerà nella normalità. Perché ricordiamoci che lo Stato e le banche hanno un loro bilancio e non possono non tenerne conto. Lo sforzo economico di oggi deve essere assolutamente rientrare ed essere ammortizzato domani. In quella fase, inevitabilmente, dovremmo gestire una sicura crisi finanziaria. Cioè, le banche, a causa delle perdite di capitalizzazione, saranno costretti, su input di Basilea, a stringere ancora di più i cordoni della Borsa, determinando quindi un altro credit crunch. Proprio in quel momento, in cui le aziende saranno concentrate, dovranno investire per riacquisire quote di mercato, riconquistare clienti e fornitori, ritornare ai livelli economici pre-crisi. Come si potrà coniugare questa necessità delle aziende con il sicuro credit crunch futuro? La soluzione non deve essere cercata domani, ma oggi. L'unica cosa che non si può fare, ribadisco, è restare immobili. Diventa quindi indispensabile? Cercare di trovare una soluzione cambiando il metodo di lavoro. Follia è ripetere le stesse azioni e pensare di ottenere un risultato diverso. Se hai un'azienda, come puoi evitare di trovarti senza liquidità e creare una fonte di credito continuo ed indesauribile? Se desideri non improvvisare, ma mettere in atto un metodo che si applica in tre fasi ben distinte di analisi economico-finanziaria, le prime due e di soluzione finanziaria la terza, contattami a questo numero, 347-723-7199 o mandami un'e-mail a questo diritto davide.orlandini.it Fisseremo assieme un appuntamento tramite videochiamata, durante il quale valuterò quale soluzione potrà essere adottata su misura per la tua azienda. Prima di concludere, ti raccomando di iscriverti a questo canale. Scrivi qui sotto nei commenti le domande a cui desideri ti venga data la risposta. Non aspettare che sia troppo tardi, ma chiamami oggi stesso e fisseremo assieme un appuntamento per trovare la migliore fonte di credito per la tua azienda. Grazie, arrivederci.